Non vivrai mai lo stesso giorno due volte. Cogli il momento, scegli il tuo obiettivo, mettiti in gioco, punta sempre più in alto. Mi ripeto spesso le parole di mio padre. Ogni cosa tu decida di fare, falla al meglio. E un'altra cosa, il successo non si eredita, devi conquistarlo.